Festa di San Giuseppe La festa di San Giuseppe è dunque per Milervino di Lecce l'occasione per rafforzare lo spirito di comunità, una tradizione che il piccolo comune a pochi chilometri dal mare di Otranto e le sue due frazioni di cocumule specchio a gallone non hanno mai perduto. Le tavole richiedono la preparazione di ben 169 piatti, esattamente 13 pietanze per ciascuno dei 13 santi presenti. Tutti i cibi fanno parte della tradizione gastronomica del Salento. Le tavole sono un atto di devozione religiosa a San Giuseppe e di virtù cristiana della carità.